Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della mia recensione, curiosità e via dicendo per quello che riguarda The Bad Batch. Siamo arrivati alla sesta puntata, nella mia settimana scorsa un po' avevo esternato la mia stanchezza nel vedere lo stesso schema, ma questa puntata torna con lo stesso schema. Esattamente la stessa cosa, si ripete lo stesso meccanismo identico, sputato, Omega che dimostra che non è una bambinetta che merita indifferenza, ha una marcia in più, intanto schilla con l'arco, giusto per citare un amico, e loro si trovano a compiere un'altra missione, sempre richiesta da parte di C, questa trandosciana che abbiamo riconosciuto nella puntata della settimana scorsa. Molto bene, c'è una grande differenza però, questa puntata fila che è una meraviglia, ha un ritmo notevole, è divertente, è veloce, c'è tantissima ciccia per quello che riguarda la lore di Star Wars, per cui alla fine mi ha fatto divertire talmente tanto che mi ha fatto un po', se vogliamo, abituare a questo solito tram tram verticale, che comunque se riescono a rappresentarmelo con questo ritmo, con questa energia e con questa grafica sempre molto sopra la media per quello che ci ricordiamo delle serie animate di Star Wars, beh, sapete cosa? Mi va anche bene, ma manteniamo, speriamo, speriamo tanto che mantengano questa velocità e questa freschezza in realtà, chiamiamola freschezza anche se la parola sbagliata, di questo ultimo, sesto episodio di The Bad Batch, che si chiama Controllo Direttamente Smantellati. Perché Smantellati? Perché, come posso dire, la missione di questa settimana dei Bad Batch, ordita sempre da parte di C, come vi dicevo prima, è quella di andare su Corellia, per cui andiamo sul pianeta famosissimo Natale di Han Solo, su Corellia, per recuperare la testa di un droide tattico che contiene delle informazioni importantissime. Vi ricordate il droide tattico? L'abbiamo visto in The Prime Wars, super figo, sembra con questa voce molto robotica, molto transformer, ma molto interessante perché è iper intelligente, ragiona, si modifica, evolve durante la battaglia proprio perché è un droide tattico e il suo compito è quello sempre di vincere le battaglie. Per cui è un, come posso dire, un trofeo molto importante, molto richiesto, molto costoso, probabilmente, da vendere da parte di C. La nostra Bad Batch va su Corellia, troviamo questa base, questa fabbrica dove smantellano i droidi separatisti, troviamo dei battle droidi, dei super battle droidi principalmente, e sappiamo che ormai di questi droidi tattici non ce ne sono più, tranne questo, per cui loro vanno su Corellia, perché sanno che ce ne è uno. Comincia la missione di recupero, logicamente ci sono mille droidi della polizia, molto divertente come viene chiamato in italiano i droidi della polizia, che parlano, ricorda molto l'attese o il linguaggio dei droidi di Star Wars della trilogia classica, per cui ogni volta che aprono bocca è un bel brividino, mi piace molto, mi porta all'interno di quel mood magico che faccio sempre fatica a definire, che riguarda Star Wars, e incontriamo due, tra virgolette, vecchie conoscenze, ma anche due nuove conoscenze che abbiamo già visto nella settima stagione di The Clone Wars, e che in molti non hanno gradito tantissimo, per cui ho detto, proprio loro dovevate riportarci, vabbè, perché non sono proprio simpaticissime entrambe, ma va bene lo stesso. In questo contesto devo dire che ha molto senso, sia anche per il loro passato che abbiamo conosciuto nella settima stagione di The Clone Wars, per cui ritroviamo Trace e Rafa Martez, che anche loro sono lì per recuperare la testa del droide tattico. Non si è ancora capito per chi e per cosa, vediamo qualcosina, ma non è proprio chiaro, per cui scopriamo qualcosina di più, una sorta di cliffhanger piccolino che ci porterà comunque ancora alla prossima settima puntata. Sì, ribadisco, mantiene esattamente lo schema delle altre tre puntate precedenti, né più né meno, ipertrama verticale, con qualcosina di microscopico che in realtà si va ad aggiungere, cioè chi è che ha richiesto questa testa di questo droide tattico non ci è dato saperlo al momento, per cui si fa interessante, ma soprattutto quello che vince ancora una volta in questo contesto è la grafica eccelsa, sempre eccelsa, sempre fuori di testa, questa luce oscura, questa fotografia molto più imperiale che repubblicana, come è stato detto anche dagli stessi creatori, super interessante e scopriamo appunto una cosina in più che si va a sommare sulle tante, forse troppe, punto interrogativo, beh no, vediamo, almeno rendono interessante, cominciano a rendere molto interessante la ciccia che è sotto, per cui non è tanto importante la verticalità delle puntate, secondo me, ma è importante quanta curiosità si mette allo spettatore di proseguire. In questa puntata la curiosità è tanta di proseguire, per cui secondo me, nonostante il replicarsi dello schema, questa puntata mi va stra bene e anzi un pochino di curiosità per questo losco figuro di cui non sappiamo nome, cognome, rassa e via dicendo, mi farà aspettare venerdì prossimo con tanta 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 attesa e un filo di ai, settimana scorsa non l'avevo, questa settimana invece me l'ha tirato fuori, per cui puntata cortissima ma c'era veramente poco da dire, non mollate, andiamo avanti e secondo me ci sarà un bel finalone quando si sbloccherà, quando vorranno cominciare a raccontarci un po' la ciccia che si c'era dietro tutto questo, secondo me la serie acquisterà una velocità molto ma molto interessante, per cui restiamo sintonizzati e ci vediamo venerdì prossimo, bella voi!